Musica Avvicinatevi a un minuto di silenzio per favore Ed è allora che invece c'è tanto da fare E vi assicuro che noi da 35 anni lo facciamo tutti i giorni e tutte le notti dell'anno Resto come facciamo? Grazie a voi, grazie alla generosità di persone come voi Grazie alla signora Pignatelli che da un dolore ha fatto nascere una cosa meravigliosa Questa, con la speranza che non sia soltanto un momento di gioia perché è Natale Ho detto gioia, non ho sbagliato, noi in Ante siamo gioiosi Siamo gioiosi perché in mezzo a tanta sofferenza un piccolo, piccolo, piccolo raggio di sole lo portiamo Siamo orgogliosi di questo e voi dovete andarne fieri Vi ringraziamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti